I genitori di Christian Menin, sei anni, il bambino di Limena, negato il 9 agosto scorso della piscina Conca Verde di San Pietro in Gu, continuano il loro iter processuale. Sono co-imputati per la morte del loro figlioletto, ma sarebbero anche pronti a chiedere un risarcimento per la morte del loro Christian, chiamando in tribunale i responsabili della compagnia di assicurazione della società natatoria che gestisce l'impianto di San Pietro in Gu. Lunedì era in calendario l'udienza preliminare davanti al giudice che avrebbe dovuto decidere sull'invio a processo dei genitori di Christian, della responsabile della piscina Conca Verde, del direttore e coordinatore degli assistenti bagnanti e dell'assistente bagnante in turno quel giorno. L'udienza è però slittata al 23 maggio per l'astensione dei magistrati contro la riforma della giustizia. I cinque sono accusati, pur con ruoli e responsabilità diverse, di concorso in omicidio colposo.